Il programma dell'iniziativa quest'anno è stato ricco e denso e noi grazie a Cilento Channel già l'abbiamo presentato in studio con Gianni Petrizzo. Venerdì 15 febbraio abbiamo l'orchestra giovanile dei Fiat del Cilento, questa bella realtà del nostro territorio cilentano. Abbiamo 65 elementi che nella Basilica dedicheranno in questo progetto POC Campania proprio a San Costabile questo concerto. E poi sabato 16 artisti e voci del Cilento, artisti e voci del Cilento con musicisti importanti, ne cito qualcuno per non far torto a nessuno. Bruno Manente al piano, Francesco Citero alla fisarmonica, Pasquale Curcio alla chitarra, Gianluca Perazzo alle percussioni e poi le voci del nostro Cilento, Paola Tozzi, Fortunata Monzo. I festeggiamenti poi vedranno la grande festa del 17 con la processione, la messa presieduta da Sua Eccellenza Ciro Miniero alle 11 del mattino e alle 17.30 la messa della sera con la processione che sarà seguita proprio dalle telecamere di Cilento Channel in diretta. La presenza poi degli archibuggieri Santissimo Sacramento rafforza ancora di più il nostro legame con l'abbadia, la guardia civica dell'abbadia. Quest'anno è un particolare innovativo e lunedì 18 ci porteremo alla volta di Ceraso dove c'è una testimonianza voluta dall'allora parroco Don Aniello che oggi è parroco della cattedrale e porteremo la reliquia proprio di San Costabile e la seconda reliquia che ci sarà portata dal padre Abbate Don Michele proprio dall'abbadia. Chiudiamo il 24 con San Costabile nel luogo a noi caro dove sono sepolti i nostri cari al cimitero e si chiude questo ciclo di festeggiamenti importante che rafforza ancora di più il legame di tutto il territorio con Santo Patrono che è Costabile e Gentilcore.